Ecco i titoli della nostra edizione del TG della Notte, Marchionne lascia Fiat Chrysler Senza debiti ma il titolo crolla in borsa, autostrade da venerdì, tutor accesi dopo tre mesi e mezzo di stop Sale ad 80 il bilancio delle vittime dei roghi in Grecia, arrivano aiuti da tutta Europa Calcio spezzatino, domani i calendari della Serie A con otto finestre di gara per ogni giornata di campionato Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'edizione della Notte del nostro telegiornale in apertura la seconda trimestrale del gruppo Fiat Chrysler dopo la scomparsa di Marchionne avvenuta quest'oggi e nel giorno della morte di Marchionne la Fiat Chrysler annuncia l'azzeramento del debito e per la prima volta viene anche comunicato che c'è una liquidità di 500 milioni di euro Intanto però il titolo crolla in borsa a Milano chiudendo in ribasso del 15,5% a 13,99 euro ai minimi dall'ottobre del 2017 male anche gli altri titoli del gruppo Exor meno 3,49, Ferrari meno 2,19 e CNH meno 0,27 dove arriva a toccare anche un meno 10,6% per poi essere fermato in asta di volatilità Profondo Rosso a Wall Street dove i titoli perdono l'11,10% a 17,14 dollari per azione Sergio era un uomo speciale ha detto Mike Manley che vediamo qui in foto proprio con Marchionne il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler ha aperto la conference call chiedendo un minuto di silenzio Tornano in funzione i tutor sulle autostrade italiane anche se al momento in maniera molto più ridotta rispetto al passato Il sistema che punisce e che supera i limiti di velocità sarà infatti attivo a partire da venerdì inizialmente su 25 tratti autostradali e solo successivamente verrà implementato Introdotto nel 2004 dopo un lavoro di preparazione svolto da autostrade insieme alla Polizia Stradale il Ministero dei Trasporti e le Associazioni dei Consumatori fino al 10 aprile scorso il tutor era attivo su oltre 2.500 km di carreggiate Tutto ciò però è finito tre mesi e mezzo fa quando la Corte d'Appello di Roma ha spento il tutor dando ragione ad una piccola azienda di greve inchianti la Crafta la quale secondo i giudici autostrade avrebbe rubato il brevetto contro la sentenza autostrade ha già fatto ricorso in Cassazione ma nel frattempo però è arrivata la decisione di spegnere il tutor ma è arrivato anche il nuovo sistema il nuovo sistema che ripartirà dunque venerdì rinnovato in una serie di specifiche tecniche a partire dall'indipendenza del software per il riconoscimento delle targhe si ripartirà da 25 tratte individuate sulle principali direttrici e nei punti sotto osservazione della rete autostradale per poi implementare il sistema fino a coprire tutte le tratte dove il tutor era già in funzione e adesso spostiamoci in Grecia con le ultime notizie continua purtroppo a crescere il numero delle vittime il bilancio ufficiale parla di 80 morti e 500 feriti continuano le ricerche delle vittime che sono iniziate lunedì pomeriggio a Mati, Rafina e Chineta vicino alla capitale Atene i vigili del fuoco sia greci che internazionali stanno ispezionando ogni singola abitazione mentre la guardia costiera sta passando al setaccio alle coste in cerca di coloro che si sono gettati in mare sperando di salvarsi come dicevamo il bilancio ha raggiunto purtroppo 80 vittime i feriti sono ben 500 ci sono ancora però decine di dispersi tra cui due gemelline salite su una barca di soccorritori ora cercate dal padre che ha mandato una richiesta di aiuto attraverso la televisione e parliamo adesso di calcio domani i calendari della Serie A il Chievo e il Parma che avevano qualche problema con la giustizia sportiva il Parma mentre il Chievo per quanto riguarda questioni amministrative legate all'iscrizione saranno regolarmente ai nasti di partenza il prossimo anno non ci saranno dunque X nella compilazione dei calendari i calendari che vedranno ben otto finestre come vediamo dal comunicato diffuso dalla Lega Calcio in tardo pomeriggio il comunicato numero 8 di oggi 25 luglio parla di queste otto finestre che saranno il sabato alle 15 con un anticipo e ancora due anticipi il sabato un alle 18 ed un altro alle 20 e 30 domenica si giocherà alle 12 e 30 il tradizionale lunch match e poi alle 15 tre partite alle 18 un posticipo alle 20 e 30 ancora un posticipo per chiudere la giornata lunedì alle 20 e 30 difficile prevedere su quale campo giocherà la Juventus di Cristiano Ronaldo e quindi dove farà il suo esordio CR7 nel campionato italiano ci sono dei paletti che sono stati inseriti nel sistema che li rispetterà dando quindi un risponso con un calendario che prevederà alcune cose in particolare confermata come dicevamo la presenza del Chievo e del Parma non si potranno ripetere alcune delle regole a cui facevamo riferimento gli stessi incroci con cui sono aperti gli ultimi due campionati lo stesso vale anche per la giornata finale quest'anno sono previste otto finestre come abbiamo visto 5 in più rispetto alla stagione scorsa nelle prime due giornate si giocheranno due anticipi al sabato una partita alla domenica poi altre 6 alle 20 e 30 e un posticipo lunedì sera alle 20 e 30 quindi nelle prime due giornate c'è anche ovviamente il fattore caldo saremo ancora in piena estate perché si giocherà a partire dal weekend del 18 agosto rispetto alle otto finestre che abbiamo letto prima ci saranno degli orari diversi per i primi due turni del campionato e adesso passiamo ad alcune notizie locali delle quali non abbiamo parlato nei telegiornali precedenti notizie che sono arrivate in queste ore in queste ultime ore in redazione cominciamo con un incendio che si è verificato alla Cecchini di Pasiano in via Galopat numero 110 alla fabbrica che ha visto purtroppo come vedete un rogo svilupparsi al suo interno e sono intervenute due squadre della centrale di Pordenone e due del comando dei vigili del fuoco di Treviso in totale hanno lavorato nello spegnimento 16 operatori che sono riusciti a contenere l'incendio ed evitare la propagazione verso le adiacenti attività l'incendio è interessato a una verniciatura ed un deposito di vernice al momento il rogo è sotto controllo e sono state poste in atto dell'attività di messa in sicurezza sono giunti sul posto sono intervenuti nel momento in cui si è sviluppato l'incendio anche i carabinieri di Prata di Pordenone vediamo le immagini che sono state fornite dai vigili del fuoco e nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente in via Pozzuolo tra una Renault ed un autocarro Fiat finito il conducente dell'automobile secondo la ricostruzione della polizia locale l'uomo al volante della vettura per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo per tamponare l'autocarro che era in sosta lungo la strada ed ancora una notizia che arriva dal mondo della politica di questa sera una dichiarazione dell'assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali Stefano Zagner da qui in avanti punteremo su operazioni di sostanza e i cambi di direzione di questi giorni servono anche a dare una scossa a tutto l'apparato è quanto ha dichiarato l'assessore intervenendo all'Assemblea di Confagricoltura del Fluli Venezia Giulia che si è tenuta a mossa in provincia di Gorizia come riporta una nota della stessa Confagricoltura proveremo ha spiegato l'assessore a ragionare per comparto ascoltando le proposte dei tanti attori in campo e andiamo a vedere adesso le notizie che abbiamo invece già trattato nei nostri telegiornali di oggi quello delle 13.30 a pranzo come di consueto sempre in diretto ovviamente poi alle ore 19 cominciamo con il caos delle multe per la zona traffico limitato 30.000 contravvenzioni che rischiano di saltare per i ricorsi dei cittadini rischiano di essere invalidate vediamo il servizio Associazioni dei consumatori a confronto con il sindaco Fontanini sulla grana multe della ZTL quali le vostre richieste Barbara Puschiasi? Consumatori attivi e Codacons nonché una delegazione di cittadini hanno incontrato il sindaco di Udine hanno rappresentato quelle che sono le criticità chiaramente dei verbali che sono stati notificati quindi abbiamo chiesto in coro che tutte queste sanzioni stiamo parlando di 30.000 sanzioni in totale vengano annullate anche perché affette apparentemente anche da gravi vizi di forma quindi noi abbiamo chiesto di accedere agli atti che hanno riguardato la creazione della ZTL qua a Udine abbiamo chiesto di incontrare anche il presidente dell'UTI e venerdì incontreremo il prefetto nel mentre stiamo presentando i ricorsi in autotutela sempre alla polizia locale e contiamo quindi che le violazioni che sono ancora in corso di notifica non vengano notificate perché parliamo di tantissimi cittadini ma anche commercianti che fruiscono del centro e che purtroppo si vedono recapitare alla scadenza dei 90 giorni circa un'ottantina di verbali per un totale complessivo di sanzioni che potrebbe arrivare tranquillamente a oltre 8 mila euro la palla dunque passerà al prefetto che soluzioni ha in mano che potere il prefetto ha il potere di annullare le sanzioni chiaramente in base a quelli che sono anche i ricorsi che giungeranno e che evidenzieranno quelle che sono le anomalie noi chiaramente insistiamo per una soluzione chiamiamola bonaria ma comunque di autotutela di annullamento di questi verbali senza ricorrere a giudice di pace questa mattina a Martignacco è stato dato a fuoco un apiario di un membro del consorzio apicoltori friulani sdegno da parte del presidente Capponi indaga la forestale in stretto contatto con la procura della repubblica si presume un'azione di vendetta dopo l'inchiesta sulla moria delle api in friuli vediamo increscioso episodio stamattina a Martignacco i danni di un apicoltore del consorzio friulano siamo con il presidente Capponi che cosa è successo? una cosa che sta di un reato pazzesco cioè alcune persone avevano già promesso che avrebbero fatto qualcosa nei confronti di un nostro associato che adaltro non c'entrava nulla con tutte quante le varie dichiarazioni che noi abbiamo fatto di morì e c'entra e hanno praticamente bruciato un intero apiario faccia conto che sono io sono ancora sconvolto per questa cosa faccia conto che ogni famiglia ha circa 50.000 api e sono dalle 15 alle 20 famiglie che sono state uccise è stato ucciso un patrimonio dell'umanità questa gente non so se si rende conto di quello che ha fatto sospettate ci sia una faida dopo l'inchiesta della procura sulle morie di api sì noi lo sospettiamo sicuramente attualmente ci sono proprio il gruppo forestale regionale che sta facendo i propri accertamenti e tutto quanto sotto il vincolo della magistratura che sta indagando e andrà a fondo su queste cose anche perché sono cose che sono state promesse da chi sono state promesse da quelle persone che sono state indagate quindi non è difficile trovare le persone secondo me comunque aspettate che la giustizia faccia il suo corso e continuerete naturalmente la battaglia per la salvaguardia dell'apicoltura friulana ovviamente io posso fare un appello anche non tutti quanti gli agricoltori sono a questo livello ovviamente dobbiamo ricucire se c'è stato uno strappo perché dobbiamo continuare a poter lavorare entrambi in maniera corretta e seguendo anche quello che è il dettato della legge vediamo adesso quali sono stati i fatti principali di cronaca oggi nella nostra regione con le pillole di cronaca un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un'azienda specializzata nella produzione di articoli per la redobagno insediata nella zona industriale di fontana fredda per causa al vaglio dei carabinieri un operaio di 37 anni ha subito un trauma da schiacciamento per la caduta di alcune lastre di vetro che lo hanno colpito alla spalla destra stabilizzato sul posto è stato trasportato in ospedale a Pordenone in codice giallo non è in pericolo di vita vestiti da carabinieri truffano un'anziana è accaduto ad Aviano dove tre persone hanno suonato l'abitazione di una 86enne il primo truffatore l'ha avvicinata qualificandosi come tecnico della società della gas nello stesso momento si sono presentati poi alla porta vestiti con l'uniforme dell'arma un uomo e una donna che hanno chiesto all'anziana se i gioielli che teneva in un sacchetto fossero provente di un furto la coppia poi si sarebbe impossessata dei preziosi mentre il complice distraeva l'anziana i tre sono fuggiti a bordo di un'auto il valore complessivo della refurtiva è di circa 10.000 euro la polizia ungherese ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo disposto dalla procura di Udine nei confronti di un 38enne cittadino rumeno deve scontare una pena residua di un anno a seguito della condanna emessa a seguito della commissione dei reati di immigrazione clandestina e resistenza pubblico ufficiale nel 2003 Amal Borghetto era stato fermato dalla polizia di frontiera mentre trasportava 7 clandestini al lato del controllo l'uomo aveva opposto resistenza procurando lesioni agli agenti e minacciandoli di morte i carabinieri di Sacile hanno sgominato una fiorente attività di raggiri online sono 5 le persone denunciate ritenute a vario titolo responsabili di truffa aggravata in concorso il gruppo utilizzava la piattaforma di annunci online subito.it per raggirare i potenziali acquirenti i carabinieri invitano chi acquista o vende sui siti di e-commerce a prestare attenzione agli acquirenti francesi mostrandosi interessati ai prodotti infatti inviano ai malcapitati false attestazioni di bonifici effettuati e torniamo a parlare di Sergio Marchionne la scomparsa della DX ad di Fiat Chrysler quali sono state le reazioni nella nostra regione cominciamo con i sindacati la notizia della morte di Sergio Marchionne come è stata accolta nel mondo dei lavoratori del gruppo Fiat in particolare dell'Automotive Light in una delle controllate che ha proprio un suo stabilimento cardine in Friuli a Tolmezzo sicuramente è stata presa dal punto di vista umano con tristezza e cordoglio e vicinanza alla famiglia dal punto di vista invece industriale e quindi delle prospettive che riguardano l'Automotive il gruppo UFC in generale è stata presa con un minimo di preoccupazione perché aspettiamo adesso i movimenti del nuovo amministratore delegato che è stato nominato a qualche giorno che speriamo possano essere lì in sintonia con quello che Marchionne ha portato avanti in questi 14 anni ecco a proposito di questi 14 anni che rapporti ci sono stati con i sindacati i rapporti con FCA durante la gestione di Marchionne sono stati fatti da conditi alti e bassi come in tutte le relazioni sindacali la FIMCISL ha avuto la capacità di accettare la sfida lanciata da Marchionne che era quella di una nuova tipologia di relazioni sindacali con un'impronta più nord europea e la creazione del CCSL quindi il contratto specifico del gruppo che a differenza magari di altri contratti che sono stati rinnovati nell'ultimo periodo ha portato cospicuvamente i salariali con l'ultimo rinnovo ai lavoratori di tutto il gruppo FCA Marchionne ha preso un'azienda il gruppo FCA che era praticamente sull'orlo del fallimento sull'orlo del baratro 14 anni fa l'ha risanata l'ha portata da una perdita di 1 miliardo e 300 milioni di euro ha un avanzo positivo di 3 miliardi e mezzo di euro ed oggi a pranzo nel nostro telegiornale abbiamo ospitato Giorgio Sina uno dei principali concessionari automobilistici titolari di uno dei principali concessionari della nostra regione sentiamo un estratto del suo intervento io ricordo quando arrivò nel 2004 che la Fiat era in grossa crisi in grossa difficoltà e quando arrivò questa persona questo dottore questo fatemi dire sconosciuto per il mondo dell'auto quella volta tutti ci chiedevamo chi è cosa farà cosa potrà fare eccetera passo dopo passo abbiamo visto quello che ha fatto ha risolevato non solo le sorti di un gruppo industriale come la Fiat ma anche a suo tempo riscattato quelle famose quote di GM che nessun altro primer è riuscito a fare che gli ha dato poi il là per poter intraprendere un ulteriore percorso di crescita che è stato poi quello dell'acquisizione della Jeep che con la quale oggi direi sta padroneggiando nel mondo grazie al lavoro fatto da questo uomo che ho anche avuto il piacere di conoscere in qualche occasione e devo dire una persona veramente intelligentissima una persona con la quale hai modo di simpatizzare e anche di essere chiaro e direi molto molto concreto una personalità che ha cambiato non solo il volto della motomobilismo ma anche il modo di fare impresa quando sono da risollevare le sorti di un'azienda sicuramente bisogna fare delle scelte delle scelte decise determinate purtroppo quando si fanno delle scelte non si può accontentare tutti e evidentemente dobbiamo riconoscergli però come ripeto le scelte hanno pagato e ha avuto la capacità secondo me uno dei manager più importanti al mondo se non il più in questo momento e ha saputo risollevare le sorti di due aziende ma ripeto non solo ma l'ultima notizia che ha potuto dare nel suo intervento presentando il piano industriale dal 18 al 22 è quello dell'azzeramento del debito industriale per il quale lui si era rimesso la cravatta come aveva promesso azzeramento debiti che come abbiamo letto nel titolo di apertura e nella notizia d'apertura c'è stato anche se come dicevamo il crollo in borsa di questo oggi è piuttosto significativo la reazione dei mercati è stata questa sia in Italia che a livello internazionale andiamo avanti adesso parliamo del debutto a Udine dello sportello ARPA di affiancamento alle imprese per supportarle nei loro percorsi di sviluppo green una iniziativa che dopo le esperienze di Pordenone ed Udine punta ad offrire soluzioni alle imprese friulane Stefania della Frate l'ARPA che cosa può fare allora per le imprese beh l'ARPA può fare molto per le imprese nel senso che può creare un affiancamento nei percorsi verso l'economia green e anche supportarla nei momenti in cui l'impresa si trova un po' in difficoltà nel seguire le normative ambientali quindi dare un aiuto in questo senso Francesca Bonemazzi l'impresa l'imprenditore che si presenta qui a questo sportello che cosa può trovare di concreto beh innanzitutto trova l'ascolto nel senso che ascoltiamo quali possano essere i loro problemi cerchiamo un po' di sviscerare però la problematica e diciamo affiancando queste le persone che vengono cercando anche un po' di districarsi all'interno di ARPA e di tutti i suoi rivoli a volte e non solo di ARPA ma in generale della pubblica amministrazione in quanto diciamo noi abbiamo collegamenti anche con la regione ovviamente e quindi possiamo diciamo sostenerli anche in dei percorsi di comprensione o di chiarimento di alcuni punti un po' più complessi o difficoltosi quindi offrite delle soluzioni sì cerchiamo di trovare delle soluzioni nuove innovative che possano tutelare l'ambiente trovare la sostenibilità andare verso l'economia circolare e dare anche all'imprenditore quella sicurezza che gli serve per produrre per trovare una risposta del mercato quindi una soluzione a tutto tondo e pensiamo di farlo in maniera continuativa in maniera con una presenza virtuale continua e fisica l'ultimo mercoledì di ogni mese e adesso parliamo di turismo con dati che in generale sono positivi fino a questo momento per la stagione turistica in corso anche se calano le presenze degli italiani scatta dunque un piano per attirare i turisti italiani nelle nostre località ce ne parla il direttore di promo turismo FWG Marco Tullio Petrangelo siamo nel bel mezzo della stagione stiva quali sono i segnali che avete come sta andando la stagione stiva sta andando bene i dati che abbiamo li abbiamo ovviamente consultivati fino a giugno adesso avremo quelli di luglio nei primi mesi nei primi giorni di agosto e sono diciamo molto buoni i turisti italiani hanno rallentato il passo nelle nostre località mentre i turisti stranieri stanno veramente avendo delle performance molto molto importanti il perché gli italiani abbiamo un po' rallentato il passo nelle nostre località forse perché sono cessati i timori delle guerre forse perché l'economia sta dando più fiducia nella capacità di spesa e per cui tornano ad essere competitive e anche località lontane che quindi necessitano di un budget di spesa più importante per essere raggiunta quindi l'estero lontano stiamo facendo comunque delle iniziative rush di ultimo istanza per gli indecisi perché sappiamo che una gran parte dei turisti decide all'ultimo momento dove andare in ferie quindi degli interventi di comunicazione importanti per le nostre località principali su stampa e giornali e sui media in generale per poter fare dei recall sull'interesse della nostra regione però diciamo il numero totale complessivo è molto buono Palmanova Aquilea Civitale e Grado saranno da oggi in poi alleati sul fronte del turismo il primo passo è stato il posizionamento di stazioni per andare alla scoperta del territorio con la realtà virtuale i video e il materiale promozionale sono disponibili anche sui smartphone tramite una app vediamo il servizio inizio inizio inizia dalla realtà virtuale la sinergia per il turismo tra Palmanova Civitale Aquilea e Grado sotto la regia di Promoturismo FWG i quattro comuni hanno abbandonato i campanelismi e dato vita in alleanza che prende le mosse da una app per vivere virtualmente le bellezze naturalistiche e artistiche del territorio video immersivi e materiali sono fruibili sia in apposite stazioni negli infopoint di Promoturismo delle quattro località sia con gli smartphone la collaborazione si svilupperà ulteriormente come rimarcato dal sindaco di Palmanova Martinez questo è il primo atto concreto di un protocollo già firmato l'anno scorso con i quattro comuni con l'assessore Bolzonello e con il Promoturismo perché io dico che bisogna fare sistema per poter far conoscere sempre di più queste città città d'arte è una città marittima come Grado che è molto vicina a tre città unesco direi che la sinergia è l'unico modo per soddisfare meglio i clienti e quindi per fare più economia questo è un po' l'obiettivo di questo primo atto concreto che è questo progetto che stiamo oggi presentando e noi chiederemo a breve un incontro al neossessore Bini proprio per poter trovare altri momenti altre situazioni altre iniziative concrete per incrementare quello che è il rapporto fra queste quattro città e adesso apriamo la pagina sportiva dopo la vittoria ieri in amicheule contro gli austriaci del Wolfsberger l'udinese oggi si è concessa una mezza giornata di relax non prima però di un allenamento defatigante che si è svolto questa mattina ce ne parla Jacopo Romeo l'udinese mantiene il cammino immacolato in questo precampionato e continua a lavorare duro per mettere benzina nelle gambe pronta a ripartire dopo un pomeriggio libero di riposo e svago mister Velasquez al netto degli infortunati può riabbracciare il gruppo della sua interezza dopo l'arrivo e il ritiro di Valon Berami lo svizzero era l'ultimo dei radici del mondiale che mancava l'appello dopo i ritorni di Alfredson e Struger Larsen fondamentale per il mister avere più uomini a disposizione in vista della fase cruciale del ritiro con impegni alle porte il calendario di amichevoli bianconero infatti si arricchisce di un nuovo appuntamento quello contro i sauditi dell'Alweda incontro fissato per mercoledì 30 a Klagenfurt alle ore 18 intanto è soddisfatto dei risultati positivi e degli esiti del lavoro svolto Simone Scuffet protagonista in queste prime uscite vincere aiuta a vincere permette anche di lavorare meglio durante la settimana durante questi giorni comunque che sono di preparazione al campionato però comunque affrontarli continuando a vincere nelle amichevoli è un segnale positivo anche per per l'esterno come ti stai trovando con questo nuovo corso tecnico con il nuovo mister è cambiato anche qualcosa nell'organizzazione difensiva però tu ti stai comportando più che bene anche ieri sei riuscito a tenere la porta inviolata sì ovviamente ogni allenatore ha le sue idee ha il suo modo di vivere le partite di prepararle di lavorare durante la settimana e questo allenatore ha le sue idee e ovviamente noi cerchiamo di metterle in pratica penso che anche i risultati si stiano già vedendo in campo anche che rispecchiano la sua filosofia di gioco lui chiede di giocare molto con la palla a terra ha dato qualche indicazione importante anche a voi i portieri per avviare l'azione magari per chiedervi di non buttarla subito via vi ha dato qualche indicazione in questo senso sì diciamo la sua filosofia è questa e lavoriamo molto anche nell'anamento per per questo obiettivo per cercare di comunque di fare la partita di tenere molto la palla a noi e come ho detto prima in queste partite penso che già qualche segnale in questo senso si stia vedendo perché comunque facciamo un buon possesso palla e domani la preparazione riprenderà con il ritmo tradizionale c'è due sedute c'è poi il match di sabato contro il Leicester City che si giocherà al Woltersee Stadium di Klagenfurt dunque una partita sicuramente importante un amichevole importante contro un avversario della Premier League inglese adesso dall'Austria dall'Udinese passiamo a Trieste dove oggi si è stata presentata la prossima edizione della Barcolana vediamo il servizio ed ora in nome di Dio madrina taglia si chiama Barcolana 50 proprio come l'edizione del mezzo secolo della regata più grande del mondo la barca vela varata questa mattina nella sede della società velica Barcola Grignano all'imbarcazione una passera appartenente alla tradizione nautica adriatica sarà dedicata a una categoria speciale nella regata del prossimo anno intanto con una spinta al recupero dello spirito delle origini si sono aperte le celebrazioni per la cinquantesima Barcolana in programma dal 5 al 14 ottobre oggi abbiamo rinnovato questa magia di Trieste questo rapporto eccezionale che Trieste ha con il mare e il varo della Barcolana 50 è davvero importante dal punto di vista simbolico da qui iniziano dei mesi nei quali tutta la città sarà coinvolta nella organizzazione nella realizzazione di un evento incredibile di un evento senza precedenti con i palazzi che parteciperanno alla Barcolana 50 impavesandosi Bando ai Campanilismi è un fiulano il primo iscritto alla regata che più che a battere il record di 2.101 iscritti dell'anno scorso punta sulla qualità archiviate le polemiche sul manifesto sono tante le iniziative per promuovere l'evento altra novità alla quale teniamo molto il progetto c'ero anch'io chiediamo a tutti di aprire i cassetti di tirar fuori le loro foto della Barcolana abbiamo partecipato una volta o 49 a terra o in mare chiediamo di portarci il loro materiale fotografico per raccontare le storie di Barcolana e adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani alcuni dei quotidiani che poi domani ovviamente troverete in edicola domani l'approfondimento a partire dalle 7 con tante prime pagine da leggere insieme a voi in diretta ma intanto abbiamo alcune anteprime cominciamo con il quotidiano libero che titola così solo da morto Marchionne fa perdere Fiat nel giorno del decesso del manager il titolo crolla del 15% per diventare il numero 1 Sergio non si è goduto un soldo e poi in alto l'occhiello malgrado i debiti azzerati dunque nonostante questo dato importante la liquidità di 500 milioni di euro come abbiamo letto in apertura di telegiornali il titolo è crollato in borsa e da qui il titolo del quotidiano libero andiamo avanti vediamo le altre pagine che abbiamo ricevuto in redazione in assoluta anteprima andiamo a leggere il giornale eccolo qui il titolo grazie Marchionne è morto dalla A alla Z ecco cosa ci lascia crollano i titoli della Galassia Fiat un po' tutto il gruppo accusato perdite consistenti sia in Italia che all'estero ed è pronta anche la pagina del foglio andiamo a vedere anche l'apertura del foglio che titola così sotto la testata il surreale dibattito tra Israele e Russia sugli iraniani in Siria quanti secondi di sicurezza se volete prima di un attacco e poi al centro si parla della politica italiana con il titolo che dice il cambiamento e lo sputtanamento mentre vediamo a sinistra per quanto riguarda ancora la scomparsa la morte di Sergio Marchionne muore Marchionne non la sua rivoluzione queste le prime pagine disponibili a quest'ora in redazione delle quali vi abbiamo letto in anteprima ai titoli domani mattina alle 7 buongiorno Friuli con tutte le altre prime pagine nazionali i quotidiani locali i titoli gli articoli da approfondire come facciamo ogni mattina sette giorni su sette alle 7 in diretta su Udi News TV grazie per averci seguito buonanotte grazie per averci seguito